Come un fulmine a ciel sereno esplosa la rabbia di Gaetano Cutrufo, ex presidente del Siracusa Calcio, che a seguito di scritte offensive comparse sui muri della città ad opere di ignoti, ha deciso di dire addio a qualsiasi personale impegno e dai membri della sua famiglia. E pensare che il presidente regionale della Sicilia della Federale Calcio, Santino Lopresti, in un'intervista rilasciata ieri a Gol Sicilia, aveva confermato che a seguito dei ripescaggi in eccellenza di Acragas, Carlentini ed Enna, vi era la certezza di tre posti liberi nell'organico delle società che avranno diritto a disputare il prossimo campionato di promozione regionale. Alla precisa domanda se il Siracusa si fosse costituito in società sportiva, avrebbe potuto così ambire ad uno dei posti vacanti, il presidente Lopresti aveva risposto che per Siracusa il comitato regionale avrebbe fatto un'eccezione, come per l'Acragas nella passata stagione. Era già stato predisposto da Gaetano Cutrufo un preciso piano operativo del nuovo Siracusa con una semplice stanza suffragata dall'accreditamento del sindaco Francesco Italia avrebbe schiuso le porte per l'iscrizione al torneo di promozione. Tale campionato, come l'eccellenza regionale dove giocheranno le Siracusana e il Real Siracusa, Belvedere, Rosolini, Palazzolo e Carlentini, avrà inizio la domenica 15 settembre mentre il primo turno di Coppa Italia si disputerà nelle domeniche tra l'1 e l'8 settembre. Cutrufo si sarebbe avvalso nella collaborazione dell'esperto dirigente Paolo Bonaiuto, già segretario generale del Palazzolo Calcio, ed aveva già preso contatti con il presidente Lopresti e con la segretaria Maria Gatto del Comitato Sicilia. I passaggi burocratici e amministrativi per l'iscrizione al campionato di promozione regionale erano ben chiari e sarebbero bastati poco meno di 7.000 euro per l'imperfezionare tutta la procedura. Il patron Gaetano Cutrufo avrebbe poi chiesto al sindaco Italia la gestione dello stadio Nicola De Simone con un duplice obiettivo non solo per la disputa delle gare ufficiali e degli allenamenti giornalieri ma anche per realizzare il progetto di una scuola calcio con annesso settore giovanile. La rabbia e la solidarietà dei tifosi siracusani impazza sui social, tutti chiedono a Gaetano Cutrufo di ritornare sui propri passi. L'ex patrona azzurra ha incassato l'affetto ai tifosi ma allo Stato appare inamovibile sulle proprie decisioni. Grazie a tutti.